Nell'attuale contesto internazionale, segnato da frustrazioni e paure intensificate dagli attentati e dalla cieca violenza che hanno così profondamente straziato il vostro Paese, è tanto più importante cercare e sviluppare il senso del bene comune e dell'interesse generale. Con queste parole Papa Francesco ha ricevuto in udienza questa mattina i partecipanti al pellegrinaggio di politici francesi eletti nella regione di Runalp, accompagnati dal Cardinale Philippe Barbarin e dai Vescovi della provincia di Lione. Il Pontefice ha riconosciuto la società francese come ricca di potenzialità, di diversità, che sono chiamate a diventare opportunità a condizione, ha precisato Papa Bergoglio, che i valori repubblicani di libertà, uguaglianza e fraternità non siano solamente sbandierati in maniera illusoria, ma siano approfonditi e compresi in relazione al loro vero fondamento che è trascendente. I cristiani, ha poi aggiunto Papa Francesco, sono chiamati a partecipare con i credenti di ogni religione e tutti gli uomini di buona volontà, anche non credenti, per promuovere la crescita di un mondo migliore. In questo senso la ricerca del bene comune che vi anima vi conduca ad ascoltare con particolare attenzione tutte le persone in condizione di precarietà, senza dimenticare i migranti che sono fuggiti dai loro paesi a causa della guerra, della miseria e della violenza. Così, nell'esercizio delle vostre responsabilità, potrete contribuire all'edificazione di una società più giusta e più umana, di una società accogliente e fraterna. Così, nell'esercizio delle vostre responsabilità, potrete contribuire all'esercizio delle persone in condizioni di ricerca. Così, nell'esercizio delle vostre responsabilità, potrete contribuire all'esercizio delle persone in condizioni di ricerca. Così, nell'esercizio delle vostre responsabilità, potrete contribuire all'esercizio delle persone in condizioni